Quando si finisce la carriera turistica è un bel casino, perché comunque finisce una bellissima pagina della vita. Personalmente posso dividerla in tre momenti. Il primo momento è di grande leggerezza, sollievo, perché finalmente finiva un periodo di allenamenti, sacrifici, impegni, routine. Dopo un po' di tempo inizia invece un po' di tristezza, perché manca comunque lo spogliatoio, manca l'adrenalina, soprattutto l'adrenalina di poter vivere ogni settimana. E poi capisci, dopo tanto tempo, invece che inizia la terza fase, dove devi mettere dentro il coraggio e voglia per iniziare una nuova avventura. Quindi hai un libro bianco dove puoi scrivere quello che vuoi. L'opportunità per uno sportivo, quando finisce di giocare, quella più medata e più veloce è quella di rimanere comunque nel mondo da dove arriva, e quindi sia come dirigente, come procuratore, come tecnico. Poi invece, secondo me c'è anche un'altra possibilità, che è quella di riuscire a capire, a lavorare un po' sui vent'anni di carriera, rielaborarli e riuscirli poi a, diciamo, tra virgolette a rivenderli o comunque a rigiocarli in altri settori del mondo del lavoro. Le competenze acquisite sul campo credo che siano più facilmente riutilizzabili nel mondo dello sport, soprattutto nella disciplina, perché comunque c'è una grande conoscenza del gioco e quindi della parte tecnica. Però credo che lo sport mi abbia dato la possibilità di scoprire determinati valori che possono essere utilizzati nel mondo del lavoro. E quindi mi riferisco allo spogliatoio, al team building, a riuscire a capire come lavorare insieme per fissarsi un obiettivo, come raggiungerlo, accettare delle scelte, condividere l'obiettivo. Credo anche che lo sport abbia insegnato un po' come relazionarsi, non solo con i miei compagni di squadra, ma anche un po' con degli altri fattori esterni, come possono essere i dirigenti, piuttosto che i giornalisti, piuttosto che i tifosi, che non sono semplici da gestire. Non ultimo, credo che avendo smesso da poco, c'è la possibilità di essere molto vicino a questa generazione. Poi passa il tempo e aumenta sempre di più il divario con la generazione che continua a giocare. Quindi bisogna avere la capacità comunque di, come detto prima, di rielaborare il vissuto e poi cercarlo di sfruttarlo al meglio nel mondo del lavoro. Grazie.